Buongiorno, oggi parliamo della parte server e quindi andremo a vedere come implementare un piccolo server web che risulterà necessario per far funzionare le nostre applicazioni Per far ciò andiamo a vedere come questo è possibile farlo tramite un framework che ci viene fornito dall'ambiente Java, scritto in particolare nell'ambiente Node, tramite un modulo che si chiama Express Il lato server non è l'argomento centrale di questo corso, come sapete, però è necessario avere un piccolo server in cui possiamo fare implementare un po' di logica Ed esporre alcuni end point, quindi alcune funzionalità per fare in modo di far funzionare sostanzialmente in un contesto reale la nostra applicazione web Finora abbiamo caricato i file dal file system che va bene per fare piccoli esperimenti ma come avete già potuto vedere abbiamo tutta una serie di limitazioni Per esempio quella dei moduli e così via e poi comunque non è il contesto in cui le applicazioni web operano naturalmente che è appunto quello dell'uso di un server web reale Preciso che solo per comodità facciamo funzionare i nostri server web localmente sullo stesso computer dove andiamo a far girare la nostra applicazione web Ma ovviamente in un contesto reale il server web sarebbe una macchina separata, collegata tramite internet, accessibile tramite la rete internet e completamente diversa da quella dove gira la nostra applicazione web Per lo meno per quanto riguarda il client che è il browser sul computer dell'utente che la sta utilizzando Come detto noi ci concentreremo principalmente nello scrivere parti di logica applicativa sul lato client ma ogni tanto avremo bisogno di un server per esempio per immagazzinare in modo permanente dei dati e così via E oggi vediamo con una lezione abbastanza pratica come fare a realizzare un piccolo server web che ci fornisca queste minime funzionalità necessarie a far funzionare correttamente la nostra applicazione web Come detto quindi utilizziamo il framework express che è sostanzialmente un semplice e abbastanza minimo server web anche se in realtà può essere esteso con tutta una serie di moduli Che forse non lo rendono poi così minimo è scritto in javascript ci consente di hostare contenuti di tipo statico quindi di servire file html, css, immagini, javascript e così via Possiamo far girare del codice al lato server e quindi creare la logica applicativa della nostra applicazione Possiamo anche collegarci a dei database server per supportare la persistenza dei dati Qui trovate come sempre tutti i link Quindi andiamo a parlare di Express Un server http semplice e facile da usare HTTP e anche application nel senso che possiamo inserire la nostra logica applicativa In realtà ci sono tanti server web che possiamo andare a utilizzare dentro Node Che è l'ambiente di esecuzione javascript che possiamo far girare al di fuori del browser Quindi Node per esempio già contiene un modulo http che potrebbe essere utilizzato per far funzionare un web server Però è molto di basso livello, non è molto friendly nell'utilizzo e quindi richiede un po' di complicazioni eccetera Per cui lo lasciamo da parte Come vedete appunto Express non è l'unico però è sicuramente il più utilizzato, il più votato Diciamo così dal punto di vista delle caratteristiche usabilità e così via Proviamo quindi subito a vedere come funziona tramite degli esempi pratici Quindi nel corso di questa lezione vi faccio vedere proprio come andarla a utilizzare sul vostro calcolatore Procediamo quindi ad aprire il nostro Visual Studio Code E qui mi sono messo, ho aperto, ho fatto file open di una cartella vuota E ecco, apriamo un terminale, possiamo farlo direttamente dentro Visual Studio Code ma anche al di fuori Diciamo direttamente in un terminale del sistema Linux E andiamo a dare i comandi che vediamo sulla slide Quindi tornando alla slide npm init, npm install express e node index.js Quindi npm init Questo funzionerà solamente se avete già installato node eccetera Ma a questo punto ovviamente l'avete fatto nel corso per poter avere tutto a disposizione Quindi facciamo npm init Possiamo dare un nome che viene preso di default dalla cartella Quindi va bene, express test Versione 1.0 Description Lasciamo pure perdere Entry point va bene Il nostro js Lasciamo pure Diciamo I default E Quindi E' tutto ok Sostanzialmente si E quindi C'è stato creato Diciamo Un sistema Che Su cui possiamo iniziare a lavorare Come vedete Abbiamo un package json Che possiamo aprire Ecco, apriamolo Che sostanzialmente ha inserito Tutte le informazioni che abbiamo Diciamo Fornito in maniera interattiva A questo punto possiamo Installare express Quindi Diciamo Npm install express Npm install express Ovviamente con la connessione internet attiva E Scaricherà alcuni dati Alcuni pacchetti Alcune cose E L'installazione Avverrà Intanto vedete che ci sono stati creati Una cartella che contiene I vari moduli scaricati Per express Che a sua volta Ovviamente dipende da altri moduli E un file json Con informazioni relative A tutti questi moduli Che però non è necessario Diciamo andare a vedere A mano Ma è soltanto L'abbiamo aperto Per Diciamo così Pura curiosità Per sapere cosa c'è Dentro Quindi Forse nel Node modules Potevamo osservare Che c'è La cartella express Che conterà Il modulo di express Più tutto il resto Da qui dipende E in più Possiamo andare a vedere Package json Che è quello Di prima Vedete che adesso Include una dipendenza In più Prima non c'era Nessuna dipendenza Che è la dipendenza Del modulo express Questo file è particolarmente utile Perché di fatto ci consente E se preso E messo su un altro sistema Di Diciamo Andare a A reinstallare I vari moduli E tutte le dipendenze Necessarie Al funzionamento Della nostra applicazione In maniera Sostanzialmente Tutto Automatica A questo punto Torniamo sulle slide E dicevamo Che dobbiamo Semplicemente Lanciare node Col file Index.js File che Non esiste In questo momento Perché Questa è Il file Che È La nostra Applicazione Serve E quindi Cosa dovremmo mettere Dentro questo file Index.js Beh Questi sono I quattro comandi Quattro comandi Javascript Da inserire In quel file Js Che sostanzialmente Realizzano Un server web Minimale Quindi Primo passo Importare Il modulo express Secondo passo Creare L'applicazione L'applicazione express Quindi Il gestore Delle nostre richieste web E terzo Passo Lasciamo Un attimo Da parte Questo Attivare Il server Quindi Mettersi in ascolto Su una porta Una porta Libera del sistema Quindi Si metterà in ascolto Sul localhost Qui porta 3000 Ma potete usare La porta che volete Basta che vi ricordiate Diciamo Che Quale porta Potete utilizzare Se sapete Se sapete qualcosa Dei socket E così via Ricordate solo Che le porte Al di sotto I 1024 Sono riservate A superutenti Quindi non sono utilizzabili Se non tramite Superutente E quindi per questo Ci mettiamo su una porta Diciamo Almeno Della 1024 In su Qualsiasi porta Fino a 65000 Va bene Questa è la porta TCP Sulla quale Il server HTTP Sta in ascolto Questa Funzione List Ne prende Una callback Che sostanzialmente Viene chiamata Quando il server Viene attivato E così Sostanzialmente Possiamo Farci una stampa Di debug Quindi dirci Siamo attivi E così via Quindi Andiamo a fare Questa prova E poi torniamo Sul quarto pezzo Che ci serve Per fare Una prima E esperimento Col server HTTP Andiamo quindi Sul nostro Package JSON E creiamo Un nuovo file Nuovo file Index JS Index JS Nel quale Andiamo A scrivere I comandi Che abbiamo Visto prima Quindi Quindi Const Express Require Express Magari Sempre Use Strict Che è la cosa Che diciamo Di mettere Prima Sempre Cost Express Require Express Poi Abbiamo detto Cost App Express Cost App Express E poi App Listen 3000 Quindi App Listen 3000 E poi Una callback Che è Console Così per nostra Comodità Server Reedy Ok Ok A questo punto Possiamo Fare una prima prova Salvando Salvando il file E provando a lanciarlo Quindi Se andiamo qui sotto Facciamo Node Index JS E effettivamente Il server Parte Questo server A tutti gli effetti Funziona L'unico problema È che Non risponderà Ad alcuna richiesta HTTP Perché Non abbiamo detto Di rispondere Ad alcuna richiesta HTTP Quindi C'è effettivamente Un server in ascolto Su questa porta 3000 Solo che Tutte le connessioni Non andranno A buon fine Dal punto di vista HTTP Perché non abbiamo Specificato Nulla da fare Dal punto di vista HTTP Questo Si può risolvere Tramite Quella Istruzione Che Vedevamo Prima Sull'esempio Quindi App Metodo Get Col Path Slash Diciamo Mandiamo qualcosa Indietro Vediamo però meglio Come funzionano Questi metodi Prima di Indettrarci Nelle nostre prove Quindi Di fatto Questi metodi Sono i metodi Cosiddetti Di Routing Routing App Che è il nostro Oggetto Che rappresenta Express Punto Metodo E questo è il metodo HTTP Quello che scegliamo Quindi può essere Get O post Put Delete Quelli che abbiamo visto Nella lezione HTTP Che prende come parametro Il path Quindi per esempio Nella Directory assoluta Nella route Del server web Siamo in Slash Che è appunto La directory Principale E poi Prende un Ender Quindi una callback Come sempre In javascript Che viene eseguita Nel momento in cui Si fa il match Della route Quindi nel momento in cui C'è una richiesta In questo caso Di tipo Slash Quindi Nella Nella prima riga Della richiesta HTTP Get Slash HTTP 1.1 Cos'era E quindi L'url È Slash Verrà richiamata Da express Questa Callback Callback Che prende Due parametri Sempre L'oggetto di richiesta E l'oggetto Di risposta E Nella callback Andiamo ad implementare La nostra logica applicativa In questo caso È estremamente semplice Diciamo che Come risposta Inviamo Una stringa di testo Hello world Quindi Diamo un'occhiata Un po' più approfondita A questa callback E Diciamo che cosa Abbiamo a disposizione Nell'oggetto request E nell'oggetto response Che abbiamo Come parametri Della nostra funzione Callback Nella richiesta Ci sono tutta una serie Di informazioni Così come nella risposta Che ci possono essere Di interesse Qui abbiamo evidenziato Le importanti Per esempio Il punto body E quindi Ci consente Di processare Il body Che arriva Con la richiesta HTTP Per esempio Fosse una richiesta Post Possiamo conoscere Il metodo Che in realtà Però dovremmo Già conoscere Perché abbiamo Già impostato Una root Per il get Post Così via Ci sono Ci sono poi Diciamo Altre Proprietà Come per esempio I parametri Quindi E La query Che Contiene Le query string Che Possono essere presenti Nelle richieste Quindi Se l'url Contiene Punto interrogativo Nome di certi Parametri Uguale Valore Eccetera Eccetera Questi sono Facilmente accessibili Tramite queste proprietà Questi sono quelli creati Automaticamente Nei browser Nel momento in cui Facciamo le sottomissioni Dei form Lato della risposta Abbiamo Tanti metodi Che vedremo poi Più con calma Più avanti Nelle prossime Slide Però Abbiamo già Intravisto Il send Che spedisce Una risposta Di vari tipi Per esempio Anche solo stringa Quindi testo Piuttosto che Una risposta In formato json Quindi c'è già un metodo Apposto per gestire json Piuttosto che una Redirect E così via Andiamo quindi A sperimentare Con Express E quindi A questo punto Possiamo fare Una prova Con il get La root Che corrisponde All Alla Directorio principale Quindi Rec Res Apriamo la graffa E Andiamo a Rispondere Quindi E Ok All Ok La Estado E prendo quindi un browser, per esempio Firefox e inserisco localhost 3000 e ho la risposta che mi aspetto hello world andiamo a vedere con l'inspector che cosa è successo in realtà dovevamo ricaricarla perchè compaia qui e quindi ho una risposta che è arrivata dal mio server web e che conterrà response direttamente il testo vedete questo è il testo grezzo i byte quindi hello world senza codice html senza nulla perchè così abbiamo specificato quindi qui vediamo gli header di richiesta e di risposta http quindi il request header quelli inviati dal browser quindi per esempio user agent mozilla eccetera eccetera piuttosto che i vari accept di cosa si attende come diciamo contenuto e così via e i response header sono diciamo piuttosto scarni per la verità perchè appunto non abbiamo specificato nulla di particolare lato express e quindi c'è diciamo quanto c'è di default il browser non sapendo come interpretare il contenuto non essendoci un particolare una particolare indicazione come per esempio il content type cerca di indovinare qual è il tipo di contenuto in questo caso non vedendo tag html ci ha fatto vedere direttamente il test tornando sulle slide andiamo quindi a vedere cosa possiamo fare soprattutto dal lato della risposta in questo momento che ci interessa approfondire abbiamo visto il metodo send l'abbiamo provato che ci consenta di impostare il contenuto del body direttamente e ritornarlo al browser c'è il metodo and che ci consente di spedire un body vuoto quindi non mettere il body sostanzialmente e questo può essere utile in certi casi per esempio in casi in cui il metodo non preveda una risposta del body oppure comunque sia opzionale noi riteniamo di non mandarlo c'è il metodo status che ci consente di impostare lo status code della risposta quindi proprio a livello di protocollo http 200 piuttosto che 404 e così via che sono i valori che corrispondono per esempio all'ok tutto ok piuttosto che not found e così via chiaramente dopo not found possiamo inserire end questi possono essere messi in cascata secondo certe regole chiaramente possiamo avere un unico status code che è la prima cosa che dobbiamo inserire e così via perché nel momento in cui viene costruita la risposta va messa per prima ecco un metodo che vi dicevo essere interessante è il json che spedisce un object serializzandolo direttamente in una descrizione json quindi noi inseriamo l'oggetto javascript qui l'abbiamo inserito direttamente potrebbe essere una variabile con un riferimento all'oggetto e automaticamente il metodo json fa tutto quindi lo converte in un testo appropriato secondo un formato json che rappresenta l'oggetto e va a fare l'operazione di spedizione all'indietro un altro metodo che potrebbe risultare interessante è il download che fa sì che l'utente venga diciamo anzi il browser non visualizzi il contenuto ma proponga all'utente di fare il download sul disco della risorsa che viene inserita nel body un ulteriore metodo che può tornarci utile è quello del redirect nel caso avessimo necessità di diciamo fare spostare il browser da un url ad un altro quindi il browser interpreterà gli header della risposta http vedendo questo redirect che viene automaticamente costruito da express e andrà con molta probabilità a seguire l'url proposto un aspetto interessante di express è che è molto estensibile nel senso che è possibile far svolgere delle azioni a delle funzionalità già fornite oppure anche scritte da noi dopo che arriva la richiesta al server web in maniera da per esempio processare tutte le richieste un sottinsieme delle richieste http tutto in un certo modo con una sequenza di funzioni che diciamo svolgono compiti comuni a tutto il server web un esempio può essere per esempio quello di che so come vedremo tra poco loggare quindi scrivere tutte le richieste che arrivano al server web che è molto utile per esempio in fase di debug prima però di vedere come funziona in pratica dobbiamo sapere che un middleware di fatto è semplicemente dal punto di vista di express una funzione che viene chiamata per ogni richiesta e quindi dobbiamo fornire una funzione che prende questi tre parametri simili a quella di prima quindi rec res quindi la richiesta e la risposta quindi caso mai volesse agire sulla risposta e next quindi un terzo parametro e quindi i primi due sono ovvi e se il middleware può andare a vedere cosa c'è scritto nella richiesta per esempio come vi dicevo alloggarvi l'url di richiesta eccetera eventualmente provvedere a una risposta di default e cose di questo tipo e quando ha finito chiama next che attiva la funzione del middleware successiva tutto questo viene gestito automaticamente da express nel momento in cui noi abbiamo registrato la funzione del middleware tramite il metodo use di app che è appunto l'oggetto express quindi la registriamo in questa maniera quindi ponendo direttamente la callback come primo parametro se la callback è il secondo parametro il primo parametro sarà il path cioè si applica il middleware solamente alle richieste per lo specifico path quindi l'url uri che viene diciamo inviato dal server dal client quindi per esempio che so solo uno specifico uri che so barra static per esempio verrà passato come richiesta risposta alla callback di un certo middleware e così via uno di questi middleware molto utili è appunto come vi suggerivo il middleware express.static quindi queste sono funzioni già predisposte all'interno di express che sono diciamo di utilizzo più comune questo middleware prende come parametri la root che è una directory sul file system locale e sostanzialmente ci dice che fa in modo che tutti i file che stanno sotto questa directory sul file system locale siano serviti automaticamente dal server web senza bisogno che noi scriviamo un punto get quindi un app punto get come abbiamo fatto prima apposta per ogni file e questo è molto comodo per le risorse statiche quindi per esempio il file index.html iniziale i file javascript i file css i file relativi alle immagini tutto ciò che non cambia dinamicamente quindi non deve essere processato in maniera particolare dal server quindi l'esempio d'uso è proprio app use express static public e quindi tutto ciò che sta sotto la cartella public dove è lanciato il server express visto che abbiamo usato un url relativo verrà servito al client quindi per esempio risponderà a questi url nel nostro esempio abbiamo fatto localhost 3000 poi ci sarà che so se sotto public c'è che so hello html se facciamo una richiesta di questo tipo questo viene mandato indietro automaticamente senza che noi abbiamo bisogno di scrivere app get slash hello html e così via e funziona ovviamente anche per le sottocartelle c'è anche la possibilità col primo parametro di questo è il parametro di use di mappare il middleware solamente come dicevamo prima quindi questo parametro qua il path di mappare il middleware sotto un certo un certo uri di richiesta quindi un uri diciamo così virtuale non è una cartella che esiste sul disco ma è un uri della richiesta http e quindi tutto ciò che sta sotto public verrà servito esattamente come prima ma sotto la uri barra static come abbiamo richiesto in questo esempio andiamo a fare quindi una prova e per esempio creiamo una nuova cartella public che appunto utilizzeremo per inserire i nostri contenuti fissi per esempio che sono file index html che ci viene aperto e quindi scriveremo del codice html eccetera eccetera quindi avendo preso un template già diciamo esistente possiamo andare a cambiare il titolo welcome to express poi andiamo che so a mettere un welcome h1 e che so un p statical reserve page quindi abbiamo scritto un po' di html niente di particolare e possiamo sostanzialmente andare a provarlo dopo che però abbiamo modificato il nostro index.js quindi sostanzialmente andiamo a cambiare questo quindi eliminiamo questo app get e faremo app use express static diciamo che nella root non nella root nella cartella public tutti i file verranno serviti automaticamente salviamo come sempre non dimenticate mai di salvare e possiamo rilanciare rilanciare andare a testare in firefox quindi chiudiamo questo e carichiamo ecco il nostro html che potrete andare a vedere come sempre e questo è il nostro html carichiamo ancora una seconda volta e ecco come vedete prima volta viene servito l'html di default anche sullo slash questa è una regola diciamo interna di quel middleware e poi siccome avevano specificato un css un js eccetera questi invece ovviamente si dice che non sono stati trovati e quindi automaticamente viene inviato il codice corrispondente not found perché avevamo scritto che c'erano e chiaramente se li mettessimo verrebbero serviti e sono presenti all'interno qui del head che abbiamo visto prima procediamo nel nostro discorso andando ancora a vedere un aspetto relativo per esempio ai parametri che dicevamo prima che spesso è importante poter processare per esempio quando abbiamo richiesto get con punto punto interrogativo questo è seguito da una serie di parametri che come dicevamo sono accessibili tramite la proprietà query e dentro query ci sono già i parametri diciamo così scompattati dal url quindi con i valori user pass eccetera questo come vedete viene fatto in maniera automatica da exp senza alcun middleware per quanto riguarda invece ciò che viene codificato all'interno del body per esempio di posto di put abbiamo necessità di un certo middleware quindi bisognerà fare use di questo middleware e come vedete exp ci fornisce già il meccanismo per i parametri volancode dentro il body piuttosto che l'interpretazione di body che sono in formato json andiamo a fare un piccolo esperimento con questi parametri e quindi direttamente sul visual studio quindi riscriviamo una seconda root quindi app get sostanzialmente simile a quella di prima proviamo a prendere due parametri così tanto per provare ovviamente non è un esempio da utilizzare in un contesto reale è solo un test rec res quindi andiamo a prendere questi parametri supponiamo che ci vengano inviati che sono username e password tramite punto interrogativo user qualcosa eccetera quindi che sono const user uguale rec query 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 e a questo punto dobbiamo conoscere il nome che viene inviato e stabiliamo che sia user potre potremmo anche mettere un valore di default per esempio con la solita sintesi javascript e poi pass che so tanto per provare con due parametri non solo uno pass unknown anche in questo caso e nel momento in cui abbiamo preso questi parametri mandiamo una risposta così da poter vedere nel lato browser che effettivamente siamo riusciti a processarli che so send di nuovo un testo login requested received vai mettiamo le graffe quindi ah ovviamente si non me le prende perché ho sbagliato il tipo di parentesi e di di apice perché chiaramente volevo fare un template string poter usare il dollaro dentro user da fare sempre molta attenzione con queste cose ovviamente questo è un esempio proprio di prova perché poi ciò che viene inserito in queste scritture con la graffa e così c'è già lo scritto che viene eseguito quindi diciamo arriva dall'utente e ovviamente va giusto bene per una prova locale e basta quindi come sempre salviamo e riproviamo facciamo quindi la prova quindi terminiamo e rinacciamo il server andiamo sul browser e inseriamo ve lo leggo che forse rimane un po' piccolo nella richiesta nel video login punto interrogativo user uguale enrico and pass uguale 12345 e come vedete abbiamo ricevuto la risposta corretta del server che è quella che interpreta i parametri della richiesta get potete come sempre andare a vedere come funziona tutto il meccanismo dobbiamo ricaricarla perché compaia nel network perché non avevo questo aperto e come vedete appunto questa è la richiesta tra l'altro fa vedere anche direttamente i parametri rispetto al browser e la risposta è semplicemente una stringa come abbiamo fatto all'inizio di questi esempi come avete visto è sempre necessario andare a rinacciare il server tutte le volte che modifichiamo il file questo talvolta può essere scomodo e quindi possiamo utilizzare una strategia alternativa che è quella di installare un pacchetto apposta che automaticamente faccia ripartire il server per noi questo è possibile farlo installando un pacchetto per esempio globalmente npm install lo faccio col sudo perché dovevo avere permessi del super utente per fare un'installazione di tipo globale e quindi meno g sta per global il pacchetto si chiama node mon devo fornire la mia password e verrà installato questo pacchetto a livello globale e dopodichè lanceremo il il server web come vedete abbiamo installato globale perché si porta dietro tutta una serie di pacchetti che non vogliamo reinstallarci ogni volta in ogni sottocartella e lanceremo il server in questa maniera quindi impostiamo a questo punto node mon index js e così avremo il nostro server e nel momento in cui modifichiamo qualcosa questo verrà riflesso diciamo automaticamente perché diciamo ecco questa è una prova diciamo col server che giri e se andiamo a modificare qualcosa che so by user user username andiamo a salvare e vedete che è ripartito da solo perché ha rilevato che c'è stato un cambiamento in index.js e ovviamente il meccanismo funzionerà e ci ritroviamo la nuova risposta ok quindi vi consigliamo semplicemente per comodità non c'è nulla di male a farlo ripartire però magari ci ne dimentichiamo non capiamo come mai non funziona e così via quindi è bene utilizzarlo se vi ricordate continuiamo quindi con il nostro discorso sui parametri quindi nel momento in cui non abbiamo dei parametri scritti direttamente nel URI della richiesta get quindi codificati nell'URL dobbiamo poi avere un meccanismo differente per fare il parsing diciamo quindi averli a disposizione tramite proprietà di un oggetto in javascript e qui trovate i casi più comuni che sono appunto quelli del form col post e il formato json che useremo ampiamente nelle nostre applicazioni web è possibile anche andare a specificare i path quindi questi che corrispondono agli URL che vengono inviati nelle richieste get, post e così via tramite meccanismi più complessi della semplice string quindi un pattern tramite per esempio regular expression e quindi bisogna conoscere un pochino la sintesi delle regular expression che però nella loro versione base sono relativamente semplici e quindi punto interrogativo che significa che può esserci o non esserci il carattere precedente più deve essercene uno o più asterisco significa che devono essercene zero o più degli elementi precedenti che possono essere anche tra parentesi quindi essere un elemento che forma un blocco unico oppure possiamo usare diciamo le regular expression attive di javascript che di fatto sono stringhe che iniziano e finiscono anziché con l'apice direttamente con il slash e quindi javascript interpreta direttamente come regular expression o addirittura possiamo avere degli array per avere più past in maniera diciamo più semplice da specificare che con le regular expression che richiedono diciamo a parte un po' di familiarità ma a un certo punto possono diventare illegibili per casi semplici o poco leggibili per casi semplici come questi per esempio appunto di url alternativi quindi in tutti questi casi quando viene rilevato uno di questi path la callback da eseguire sostanzialmente è sempre la stessa che quella passata come parametro successivo un caso interessante che vale la pena di conoscere anche perché viene spesso utilizzato nei meccanismi diciamo rest che andremo a vedere nella prossima lezione è quello di avere i parametri codificati nella diciamo nel nel percorso che viene richiesto che quindi non corrisponderà ad una specifica directory ma verrà interpretato in questo caso come una richiesta per un certo percorso che però contiene dei valori variabili che sono appunto questi parametri questi vengono introdotti tramite questa sintassi che inizia col due punti e poi diamo un nome specifico nostro che verrà matchato diciamo con questa porzione del url che viene richiesto e sarà quindi accessibile come proprietà nell'oggetto param params che abbiamo visto prima della richiesta quindi possiamo avere anche più parametri per quindi che se ho per esempio in questo caso barra users barra user id barra books barra book id cioè vogliamo che so avere relativamente un certo utente di cui specificheremo l'identificativo che sono un numero qualcosa di questo tipo secondo della logica della nostra applicazione tutta la lista o meglio dei ebooks quindi il libro che ha un certo id quindi che so potrebbe essere l'autore del libro e così via però a noi in questo momento la semantica interessa poco interessa sapere che abbiamo accessibilità a questi valori direttamente senza scrivere una linea di codice in più semplicemente dando dei nomi e poi processandoli tramite questa sintassi del punto con la proprietà e ovviamente andando poi a fare quello che vogliamo quindi ci saranno degli identificativi che sono accessibili tramite questi valori che possiamo poi usare come vogliamo quindi sono collegati un identificatore che stabiliamo noi che ci possiamo ritrovare come proprietà nei parametri in recparams e tra l'altro è possibile anche specificare una espressione regolare che debba fare il match con questo parametro per esempio se vogliamo solo dei numeri b slash t è l'abbravazione di numero quindi da 0 a 9 più vuol dire deve essercene almeno uno e quindi questo valore dovrà essere un numero se no avremmo potuto scrivere qualsiasi tipo di identificativo che includesse anche che so delle lettere alfabetiche e così via è ovviamente ad esclusione dello slash che ci serve a separare il resto della string quindi in qualche maniera deve essere identificabile separabile dal resto veniamo adesso ad un altro middleware particolarmente utile e che quindi vale la pena di conoscere quindi questo middleware che ci fa il login delle richieste perché di default non abbiamo nulla che l'atto server ci faccia l'operazione di login quindi ci dica che è stato richiamato un certo metodo con un certo url e così via potremmo farlo noi con dei nostri console log dentro i nostri metodi però chiaramente se c'è qualcosa che lo fa automaticamente in maniera affidabile è meglio utilizzare questo approccio quindi nel momento in cui noi appunto facciamo le richieste tramite il browser chiediamo nuovamente e così via non succede nulla qui sulla console nel terminale dove abbiamo lanciato il nostro server e quindi ci piacerebbe poter andare ad avere un logging che in express diciamo ne esistono come sempre tanti noi vi consigliamo di usare questo morgan che è un pacchetto compatibile un modulo compatibile con express che diciamo ha una sintassi molto semplice carichiamo il modulo e poi diciamo di usare il middleware a express proviamo quindi quindi andiamo qui const morgan require sempre questa cosa che viene fuori require morgan e poi dobbiamo dopo che abbiamo creato l'app express dire app use del middleware e quindi questo morgan che prende un parametro che è diciamo il livello di dettaglio che vogliamo nel logging quindi saldiamo e ovviamente visto che si caricava automaticamente non abbiamo installato il modulo e quindi questa volta dobbiamo per forza fermare il server e andare a installarci il modulo npm install morgan quindi come sempre attendiamo che venga scaricato installato e a questo punto possiamo lanciare il nostro server andiamo a fare una richiesta http e andiamo a vedere il risultato vedete che c'è questa richiesta logata diciamo con alcune informazioni di base codice risposta 304 get e così via quindi se andassimo a fare un'altra richiesta avevamo detto slash che era la nostra pagina http e andiamo a vedere la risposta che sono in realtà tre richieste perché il browser fa tre richieste la prima e poi le altre che non vengono trovate un altro aspetto di nostro interesse è la validazione dell'input che è assolutamente importante per poter diciamo andare a controllare che almeno a livello sintattico tutto ciò che viene inviato dall'esterno server web rispetti le caratteristiche che sono previste dalla nostra logica applicativa quindi per esempio nel momento in cui facciamo la post di un username pass come abbiamo fatto prima e vogliamo che la username sia un'email questa sia effettivamente un'email quindi soddisfi i canoni sintattici dell'email quindi deve esserci presente la chiocciolina un dominio eccetera eccetera oppure che so deve esserci una lunghezza minima piuttosto che tutta una serie di altre caratteristiche che ovviamente in un caso semplice sono facili da implementare però possono essere anche più sofisticate quindi se andate a cercare su questo express validator vedrete che ci sono sistemi per testare praticamente qualsiasi cosa che ci venga in mente quindi il fatto che che so siano stringhe che corrispondono a particolari tipi di di formati e così via quindi faccio un esempio che so se contiene solo caratteri hash piuttosto che codificato in una certa maniera se è una data che sia prima di dopo una certa data è un IBAN è un che so è un valore corretto per la diciamo di valuta piuttosto che è divisibile per un email qualsiasi cosa vi potete diciamo è un fully qualified domain name quindi è un nome di dominio valido è un hash di un qualche tipo eccetera eccetera qualsiasi cosa quasi qualsiasi cosa vi possa venire in mente è disponibile in questa libreria e quindi vi invitiamo ad utilizzarli diciamo per validare sempre sempre ciò che arriva al server web perché non è detto che arrivi dalla nostra applicazione che non ci si sia messo in mezzo qualcuno incluso l'utente che usa l'applicazione che potrebbe essere anche uno di quelli che va a fare questo tipo di modifiche per magari trarre vantaggio da qualche problema che potrebbe verificarsi sul lato server della nostra applicazione e questo è il modo per utilizzare questo validator diciamo pensato per express sul lato del server questa ha la sua particolare sintassica appunto da andarsi a verificare però tanto per darvi un esempio quindi prende come secondo parametro aggiunge un secondo addizionale parametro nel che sono in app e post per preprocessare la richiesta e quindi prende un array di diciamo di di chiamate a funzione che devono essere scritte secondo quanto previsto da questo validator quindi check come validation result eccetera verranno importate tramite l'importazione del modulo apposta del validator che ci mette a disposizione queste funzioni e possiamo quindi usare quei metodi che abbiamo visto prima e nel momento in cui non soddisfino i requisiti ci verrà fornita un array di oggetti che contengono le informazioni relative a quali sono i parametri che non soddisfano i requisiti che abbiamo imposto e di cui possiamo fare cosa vogliamo per esempio tornare indietro al client per dire quali tipi di problemi abbiamo incontrato e così via a questo punto abbiamo visto diciamo come realizzare diciamo le funzionalità principali lato server però siamo ancora al punto in cui dobbiamo fare le chiamate diciamo lato client a mano nel senso abbiamo scritto nella barra del url del browser e abbiamo fatto delle semplici prove e quindi da adesso in poi ci focalizziamo su come realizzare queste chiamate diciamo dal lato dell'applicazione quindi lato client e d'altro canto nel momento in cui abbiamo deciso quali sono le chiamate che ci servono lato applicazione e come andare a fare l'implementazione corrispondente sul lato server che ci consente di andare ad avere qualcosa di diciamo utilizzabile come funzionalità per la nostra applicazione quindi prima di tutto dobbiamo stabilire il formato in cui ci scambiamo le informazioni come realizziamo questi end point che tipo di semantica utilizziamo per diciamo descrivere l'url e così via e questo è un argomento diciamo della prossima lezione quindi concludiamo questa lezione a questo punto e continuiamo nella prossima lezione